Oltre 200 telefonate a poche ore dall'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale sull'emergenza coronavirus. La centrale operativa della polizia locale di Pavia è stata messa sotto stress dalle chiamate di tantissimi cittadini preoccupati dalle disposizioni del governo in molti punti non chiarissime. La cittadinanza normalmente si è preoccupata di avere delle informazioni in merito al contenuto e le domande più frequenti sono quelle della possibilità o meno di muoversi sia da una zona rossa all'altra o anche all'interno della zona rossa. Noi ci siamo limitati a ribadire quello che il DPCM stabilisce, quindi questo divieto di spostarsi. Chiaramente all'inizio diventava un pochettino difficoltoso far capire ai cittadini che si spaventavano di queste misure. Poi diciamo che col passare del tempo anche con l'aiuto dei medi e la televisione che chiariva bene le cose la situazione è un pochettino migliorata. Adesso la situazione è più tranquilla, ieri abbiamo ricevuto più di 200 telefonate che chiedevano appunto delle informazioni, oggi siamo già scesi. Numerose anche le telefonate da parte dei ristoratori del capoluogo il cui lavoro è stato pesantemente limitato dalle nuove disposizioni. Poi le altre informazioni dagli operatori commerciali, anche loro preoccupati o comunque interessati a quello che potevano fare o meno sulla chiusura delle attività, ristoranti che volevano fare l'asporto oppure tenere aperto e fare le consegne a domicilio, anche lì è stato chiarito. Anche se stiamo chiedendo ancora a Regione Lombardia delle informazioni più precise e dettagliate sulle varie tipologie di attività commerciali.